La Giunta della Calabria ha finalmente varato il programma di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e servizi in agricoltura. Un piano che si attendeva dal 2007, quando la legge regionale dell'epoca impose al commissario liquidatore dell'Arsa 90 giorni per redigerlo. Un documento però mai arrivato e la cui redazione, anche ora a 8 anni di distanza, non è stata facile. Lo ha precisato la Regione, che ha spiegato di avere dovuto fare uno scrupoloso e farraginoso lavoro di ricostruzione della situazione debitoria e creditoria dell'Arsa e dei tempi necessari a realizzare il trasferimento e la vendita dell'intero patrimonio immobiliare. Solo dopo è stato stabilito che la gestione stralcio, la prosecuzione delle attività di liquidazione e la rivendita del patrimonio, al fine esclusivo del ripianamento dei debiti, verrà affidato all'Arsac, che assorbirà anche il personale dell'Arsa. In particolare, i lavoratori degli acquedotti rurali saranno trasferiti nei consorsi di bonifica, nell'attesa della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale. Per agevolare il processo di ripianamento dei debiti, fa sapere la Regione, è stato approvato anche un disegno di legge che semplifica ed adegua le procedure previste dalle leggi regionali numero 10 del 2000, numero 8 del 2003 e della legge regionale 66 del 2012.